Ottava giornata in Lega 2 di basket nel Girone Verde, le tre squadre laziali saranno impegnate tutte in trasferta e di domenica. Viaggi in Sicilia per Stella Azzurra e Rieti, i Capitolini ancora secco di vittorie dopo sei partite, complice anche il trono di riposo, vanno ad Agrigento. Va leggermente meglio Rieti con una sola vittoria l'attivo, i Sabini saranno ospiti del Trapani che in classifica è due punti avanti ai laziali insieme a Cremona e alla Benacquista Latina. Proprio i Nerazzurri sono reduci dal posticipo vittorioso di mercoledì scorso contro Torino e domani giocheranno a Piacenza nel tentativo di agganciare in classifica proprio gli emiliani. In Serie B, Girone C, c'è la capolista imbattuta Real Sebastiani Rieti che tenta la fuga. L'avversario di domani però non è dei più facili, arriva in terra Sabina, infatti Fabriano, quarta forza dell'aggruppamento. La squadra laziale viene da un momento esaltante al di là delle sette vittorie su altrettante gare. Ci sono oltre 19 punti di scarto medio, coach dell'agnello, predica umiltà chiedendo grande concentrazione ai suoi ragazzi per dare quella giusta continuità di prestazione. Fabriano, tra l'altro, è squadra di grande caratura, ha un quintetto di ottima qualità tecnica con elementi veramente talentosi e importanti per la categoria. Laziale in evidenza anche nel Girone D. La Banca Popolare del Cassinate, Virtus Cassino e la Luis Roma sono seconde in classifica dietro l'imbattuta a Ruvo di Puglia. Proprio i cassinati saranno protagonisti domani del big match in casa della capolista. La Luis Roma gioca l'anticipo contro Corato.